Ci siamo? Bene, possiamo iniziare. Buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue in sale, buonasera a chi ci segue da remoto. L'oggetto di questa sera è un libro, La povertà in Italia, che è firmato a sei mani, Chiara Saraceno, David Benassi, Enrica Mordicchio. Tutti e tre gli oratori sono presenti, qui oppure da remoto, quindi abbiamo tutti e tre gli autori presenti. Per discutere con loro abbiamo l'assessore al Comune di Milano, Lamberto Bertolè, il segretario della Camera del Lavoro di Milano, Massimo Bonini, e una studiosa del Politecnico, Stefania Sabatinelli. L'argomento che affrontiamo è un argomento di grande importanza, il libro è, chi discute con gli autori, è un libro francamente di notevole interesse. Aggiungo solo una cosa, perfino banale, ma voglio dirlo, nella programmazione, a suo tempo, pensate che fosse proprio opportuno inserirlo in questo periodo, prima delle elezioni, perché il tema ha molto a che fare anche con il dibattito elettorale, molto a che fare il dibattito elettorale, per ragioni assolutamente evidenti, penso che sia bisogno anche di aggiungere altro, questo mi sembra una buona cosa, una discussione seria, su questa questione fatta da studiosi e da protagonisti della vita politica pubblica milanese, su questa questione, approfittando di questo libro importante, mi sembra una questione assai pertinente e ci auguriamo possa quindi circolare opportunamente. Io non aggiungerei altro e comincerei dando la parola ai nostri discussant, e comincerei con l'assessore Lamberto Bertolè. Prego Bertolè. Buonasera, buonasera a tutti e a tutti, grazie molto per l'invito, condivido lo spunto iniziale che è quanto mai utile e opportuno affrontare una discussione in modo approfondito, rigoroso, con un punto di vista così qualificato in questa fase di discussione ahimè così superficiale sui temi che invece questo libro approfondisce in modo così attento e rigoroso. Perché superficiale? Perché credo che tutti noi siamo in qualche modo sottoposti a questo dibattito pubblico che attraversa tutti i media di qualunque genere, da quello televisivo forse più nazionale popolare, ma anche la carta stampata, in cui ahimè una discussione sulle proposte, sulle alternative, sulle analisi che stanno accompagnando questa campagna elettorale rispetto al tema cruciale di questi giorni, che è quello dell'aumento delle disuguaglianze di questi giorni, inteso in senso ampio, ovviamente ci sta lasciando tutti molto perplessi, perché quello che sta proprio mancando nella discussione pubblica è l'apertura di una cornice di discussione rigorosa e seria. Questa discussione che oggi Casa della Cultura ospita mi sembra una bella opportunità. Ringrazio gli autori dei libri per il lavoro prezioso che hanno fatto e vorrei dare un mio contributo a questa discussione evidenziare alcuni aspetti che mi sembrano quelli dal mio punto di vista più interessanti e rilevanti. Se è vero che ormai in modo superficiale tutti parliamo del contrasto alla povertà, dell'aumento delle disuguaglianze e delle disuguaglianze come elemento alla base poi del sviluppo del populismo e di tutti questi fenomeni politici anche sovranazionali con cui ci confrontiamo, è anche vero che abbiamo uno sguardo molto poco attento alla dimensione dinamica, all'evoluzione, ai cambiamenti, alle origini, all'evoluzione e alle tendenze sul tema della povertà. Questo libro fa esattamente il contrario. Penso che il maggior pregio, la cosa che a me ha più colpito nell'accostarmi a questa lettura, è un libro da studiare, questo non solo da leggere, è che parte dall'analisi delle cause, dello specifico caso italiano, qui si va alle radici per capire quali sono le cause, ma ci descrive e ci racconta anche l'evoluzione in atto. Questo è molto importante perché nel momento in cui noi oggi siamo concentrati sulla fotografia, come stiamo oggi, se questa fotografia non la collochiamo dentro uno sviluppo, non sappiamo dove stiamo andando. Siamo su un piano inclinato, stiamo scivolando verso il basso, si stanno accentuando alcune tendenze o è una fotografia grave di una situazione invece in evoluzione positiva. Ecco, questo libro è molto chiaro nel dirci da dove veniamo, come le diverse crisi che dal 2008 ad oggi si sono succedute, sono intervenute nell'accelerare alcuni processi e a che punto siamo oggi. Ecco, mi sembra che questo libro, che per ragioni di scrittura anticipa l'ulteriore crisi di questi mesi e che stiamo affrontando, quelle famose nubi all'orizzonte di cui ci ha parlato il Presidente Consiglio Draghi qualche settimana fa. Ecco, io credo che prendendo lo spunto da questo libro e approfondendo le sue valutazioni è evidente che siamo alla vigilia di un ulteriore salto di qualità rispetto a alcune cose che sono raccontate nel libro, perché quando poi nello specifico ci racconta l'evoluzione in Italia rispetto alle fasce di popolazione più a rischio di vivere una condizione di povertà, non più gli anziani, come era lecita aspettarsi negli anni 90, ma invece le famiglie con minori, i lavoratori poveri, quindi i giovani lavoratori precari in molti casi e le persone di origine straniera, le tre tipologie che sono messe sotto l'interingrandimento del libro, ecco come la crisi energetica, l'aumento così alto dell'inflazione alla vigilia di quest'autunno andrà a impattare su questa evoluzione. E' lecita aspettarsi che andrà proprio a colpire ancora di più, in modo ancora più forte, proprio queste tre categorie che il libro mette sotto l'interingrandimento. Quindi io credo che questa lettura e questa occasione di confronto sia molto importante per guardare al fenomeno della povertà in modo più attento, approfondito e meno superficiale. Al tempo stesso questo libro non si concentra solo sulla lettura del fenomeno, ma ovviamente anche su un'analisi delle politiche e quindi delle risposte pubbliche al tema della povertà. Ed è inutile dire che questo libro parte dalla considerazione del grandissimo ritardo italiano. Il nostro paese ha affrontato con grande ritardo questo tema e lo ha affrontato dovendo si confrontare con un'inerzia e un sistema di politiche pubbliche sociali in senso ampio molto frammentato, molto poco sottoposto alla valutazione dell'efficacia e molto conservatore nelle sue impostazioni. È come se si fossero aggiunte, stratificate, risposte diverse senza mai riuscire a mettere a sistema, razionalizzare, valutare l'efficacia e utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione. Anni fa un bellissimo rapporto dell'IRS ci raccontava dell'iniquità del nostro sistema di welfare complessivo, un sistema di welfare non così povero di risorse, ma assolutamente iniquo nella sua distribuzione. Un sistema di welfare incapace di dare a chi ha più bisogno e spesso un sistema di welfare che invece si prevede a grandi trasferimenti monetari, molto su un piano previdenziale, molto sul piano sanitario, pochissimo sul piano sociale e non universalistico e non a vantaggio delle persone con maggiore rischio di vulnerabilità e di fragilità. Ecco, quell'analisi di qualche anno fa è un'analisi che viene approfondita in modo ancora più rigoroso in questo libro che ci racconta anche del tentativo degli ultimi anni di mettere a posto alcune cose e quindi le due misure quella del reddito di cittadinanza su cui si sta discutendo molto viene raccontata come finalmente una misura che ha provato a dare una risposta con tutti i limiti e con tutto il bisogno anche di correzioni, di messa a punto una risposta al tema del reddito di cittadinanza che in questo paese non c'era con un grandissimo ritardo, l'assegno unico familiare un'ulteriore introduzione degli ultimi anni anche questo è arrivato con molto ritardo e invece ancora la fatica a occuparsi ovviamente del tema poi della precarietà e quindi della stabilità anche del lavoro. Quindi io credo che oggi la discussione del confronto tra di noi debba proprio vertere su questi punti, come facciamo a riuscire a essere tutti più consapevoli delle tendenze in atto e quindi dei rischi che abbiamo davanti perché una lettura dinamica ci pone anche di fronte alla consapevolezza sui rischi e quando siamo consapevoli dei rischi sappiamo anche forse quali contromisure adottare e quali priorità darci. Al tempo stesso c'è un'analisi sulle politiche e sui vizi profondi del nostro sistema di welfare. Io in questo momento svolgo una funzione amministrativa pubblica e un ruolo amministrativo esecutivo in una città come Milano per le sue complessità. tocco con mano ogni giorno questo tema della frammentazione delle risorse. Noi abbiamo davvero diversi livelli di risposte ai bisogni sociali che hanno bisogno di essere integrati, ricomposti per riuscire anche a usare le risorse al meglio andando anche a raggiungere e incontrare le persone che non sono raggiunte dai servizi e dalle risposte tradizionali. uno dei grandi punti per noi è la sfida di riuscire a avere dei punti di accesso ai nostri servizi e quindi alla conoscenza da parte nostra per poter incontrare i nuovi bisogni le nuove povertà e dare delle risposte. Noi abbiamo una fascia di popolazione conosciuta storicamente seguita ai servizi a cui cerchiamo di dare risposte ma abbiamo tutto un pezzo di popolazione a cui non arriviamo. Allora come riuscire a raggiungere queste persone e incontrare i nuovi bisogni esplosi in questi anni ecco penso che questo libro sia utile anche per aprire un confronto e un ragionamento in questo senso. Tra l'altro il tema della ricomposizione delle risorse richiama anche il tema di ricomporre la domanda non si tratta solo di ricomporre le risposte anche la domanda è molto frammentata e tutto il lavoro che stiamo cercando di fare con grande fatica ma con collaborazione delle forze sociali qua vedo presente Massimo Bonini che saluto è quella proprio di provare a riuscire a fare una maggiore regia e a ricomporre in una logica di lungo periodo i nostri sforzi e il nostro lavoro sapendo che ahimè riparto dal punto iniziale che siamo partiti il dibattito pubblico è malato di presentismo di in qualche modo una discussione sull'oggi sulla polemica quotidiana che rende molto molto difficile uno sguardo di insieme ecco questo libro è proprio un antidoto a un presentismo che ci schiaccia sulla fotografia dell'esistente e non ci porta su una lettura anche dinamica dei processi che è condizione essenziale per incidere sui processi nel modo più efficace possibile grazie continuiamo ci solleciti spesso da questo punto di vista e credo che la campagna elettorale sia proprio un momento per fare una riflessione importante perché anch'io ritengo che la discussione che noi stiamo alla quale noi stiamo assistendo e scusatemi il gioco di parole sia proprio povera di contenuti rispetto a un tema sociale che avanza una difficoltà sociale che avanza e pare che appunto insomma si guardi un po' da un'altra parte o si affronti un tema fondamentale per una qualunque comunità per una qualunque società con una sorta di superficialità che per certi versi allarma io a volte colgo quasi nel dibattito che spesso leggo sui giornali sicuramente di una parte politica quasi a trattare il tema delle questioni sociali delle problematiche sociali e quindi anche della povertà quasi con una sorta di atteggiamento di riluttanza quasi come se fosse un problema una colpa doversene occupare io credo che appunto tutto il dibattito che c'è stato attorno al tema del reddito di cittadinanza dal mio punto di vista abbia dato quel segno un po' quasi un tutti contro tutti e lo strumento della della clava rispetto alle discussioni nei confronti dell'avversario spesso e volentieri avversario politico è stato il reddito di cittadinanza che si è preso un po' a simbolo dall'una e dall'altra parte secondo me in maniera strumentale ma come dicevo prima anche superficiale andando a parlare di una condizione poi di vita delle persone che di fatto nessuno vuole affrontare nessuno vuole vedere nessuno vuole discutere leggendo il libro io mi sono interrogato spesso poi anche della definizione di povertà tutti noi abbiamo un'idea una concezione quello che a me preoccupa dal punto di vista che noi vediamo come organizzazione sindacale è che la fascia di povertà si allarga sempre di più e questo grido d'allarme lo diamo proprio ma so che ad esempio Bertolene è molto sensibile da questo punto di vista ma come penso anche tutta l'amministrazione del comune di Milano questa fascia si allarga sempre di più e c'è una dibaricazione di accesso diciamo così anche ai servizi anche alle opportunità a reddito ovviamente perché non è una cosa che non conta da questo punto di vista che insomma si allarga sempre di più noi richiamiamo da tanti anni la questione del lavoro connessa alla condizione di vita ed è inevitabile che ci sono da tempo processi che vanno in direzione assolutamente opposte si continuano a creare condizioni di lavoro precarie condizioni di lavoro povero come veniva citato prima oggi in questa epoca abbiamo dovuto tutti scoprire che non è più sufficiente lavorare per avere una vita dignitosa io credo che in un contesto come quello milanese in cui c'è una forte condizione di lavoro povero perché il lavoro della città di Milano è un lavoro fortemente a trazione terziaria Milano non è più una città industriale non è più una città manifatturiera dentro il lavoro del terziario si annida appunto la precarietà la frammentazione del lavoro ne abbiamo parlato tante volte ma quando noi parliamo di lavoratori in appalto non ci rendiamo conto che stiamo parlando di persone con un contratto a tempo indeterminato che possono lavorare cinque ore alla settimana con delle turnistiche che non permettono se non attraverso il lavoro grigio il lavoro nero di andare a lavorare da un'altra parte noi abbiamo formulato nel nostro paese nel corso degli anni delle leggi io penso alla legge sul part time che aveva in un'altra epoca quasi anni luce fa era data come uno strumento di welfare quasi secondo me ancora non era ben chiaro diciamo così a che cosa dovesse servire una legge sul part time era stato visto come uno strumento di welfare per le donne per gestire meglio la famiglia io credo che oggi quella quella concezione di legge sia assolutamente sbagliata perché non è solo responsabilità della donna la gestione della famiglia o dell'anziano che sta male ci dovrebbe essere una corresponsabilità di genere ma qui apriamo un altro capitolo un altro fronte il problema è che attraverso una legge che provava a dare una risposta di quel tipo in realtà si è creato ad esempio anche qui un segmento di lavoro che vive sul part time penso appunto a grande mondo del terziario che opera a Milano nei centri commerciali nella grande distribuzione nel settore alberghiero nel sistema della cultura nel sistema dell'intrattenimento nel sistema dello spettacolo in cui una condizione di vita è costruita non solo sulla precarietà ma sulla riduzione dell'orario di lavoro io a volte litigo all'interno della CGL quando parliamo di riduzione dell'orario di lavoro faccio notare che una larga fetta di lavoratori non vede come obiettivo la riduzione di lavoro ma l'aumento delle ore di lavoro per poter raggiungere un reddito dignitoso e io mi limito anche per ragioni di tempo a descrivere un circuito del lavoro normale regolare tradizionale poi c'è il mondo del precariato e tutto quel mondo delle partite IVA monocommittenti che a Milano sono un altro fenomeno molto forte che non hanno strumenti di assistenza di nessun tipo e che sono state espulse dal mondo del lavoro tradizionale per le logiche di riorganizzazione magari anche per i processi di trasformazione delle aziende penso soprattutto al mondo bancario al settore bancario dove c'è stato un forte impulso di cambiamento del modello organizzativo attraverso la digitalizzazione di quei modelli che ha prodotto grandi espulsioni silenziose nel mondo del lavoro lavoratrici e lavoratori che non sono totalmente scomparse dal mondo del lavoro ma che si sono riciclate come partite IVA che hanno come unico committente il suo vecchio datore di lavoro con un reddito che oscilla se va bene intorno ai 1000 euro i più fortunati 1200 euro 1300 euro dentro un contesto di fatto di lavoro che è dipendente anche se ha una forma autonoma ma che in realtà poi non vede tutto l'accompagnamento del sistema di tutele che riguarda appunto il sistema del mondo del lavoro dipendente ecco questo è uno dei punti allora questa condizione del lavoro e noi ci conosce da tempo sa che insisto su questa cosa cioè la condizione del lavoro determina le condizioni di vita e se queste sono le condizioni del lavoro in una città che ha in questa epoca non da oggi ma da prima della pandemia un aumento esponenziale del costo della vita oggi abbiamo l'arrivo dell'inflazione oggi abbiamo l'arrivo dell'aumento dei costi energetici allora io credo che proprio il dibattito politico capendo anche il contesto della campagna elettorale per carità di dio però sembra che stia guardando da un'altra parte sembra non accorgersi che qui in questo autunno e in questo inverno rischiamo di avere un'esplosione di tensioni sociali dovute proprio a tutto questo insieme di condizioni che portano e guardano con preoccupazione a un meccanismo di scivolamento complessivo verso una condizione di povertà poi certo abbiamo la condizione vera della povertà i suoi strumenti su questo Alberto Lea ha già detto tanto io condivido la lettura che viene data da lui ma anche largamente individuata nel libro però ecco la preoccupazione è che ci sia un insieme di povertà una sommatoria di povertà a partire da quella del lavoro del reddito della condizione di vita una povertà culturale oggi scopriamo il rischio di una povertà energetica a Milano quante persone rischiano quest'inverno di non poter pagare le bollette per riscaldare la propria abitazione è un tema e noi dobbiamo guardare in faccia la realtà dal mio punto di vista se vogliamo provare a invertire la rotta in queste settimane ricevo tante visite di candidate e candidati alla competizione elettorale e su questo è un punto sul quale insisto bisogna andare in Parlamento e provare a dare delle risposte organiche complete ma che diano risposte altrimenti ad esempio una città come quella di Milano che spesso e volentieri attraverso il proprio sindaco io concordo chiede a volte poteri speciali io credo che debba avere e debba portare avanti questa richiesta non solo per guardare un modello di sviluppo e maneggiare il modello di sviluppo ma lo deve fare anche dal punto di vista degli interventi in tema di welfare in tema sociale in tema anche di lavoro altrimenti guardate qui siamo di fronte a dei film già visti in altri contesti non solo europei ma mondiali dei grandi sviluppi delle aree urbane che di fatto non fanno altro che divaricare le condizioni tra chi può e chi non può e questa risposta il governo centrale faticherà sempre a darla perché il paese come diciamo spesso l'Italia è lunga e stretta ha delle condizioni talmente variegate che non fanno rendere conto di quella che è la condizione reale del motore di sviluppo economico del paese che è la nostra città e se non ci si rende conto di questo io credo che poi questa difficoltà si allarghi a tutto il paese continueremo ad avere l'applicazione di politiche come diceva Bertolet disorganiche frastagliate frammentate e non c'è mai una risposta vera ed organica ecco allora questo insomma sono un po' di riflessioni suggestioni che mi veniva da condividere rispetto al tema che vogliamo discutere oggi e come dicevo all'inizio chiudo il dibattito attorno al reddito di cittadinanza è proprio l'esemplificazione di una superficialità di discussione attorno ai temi del disagio sociale della povertà e della condizione che oggi vivono le famiglie e le persone se noi non connettiamo la discussione del reddito di cittadinanza agli strumenti di intervento facciamo appunto una discussione vuota io per esempio penso che il reddito di cittadinanza sia uno strumento diciamo così corretto dal punto di vista del titolo dell'intervento delle necessità di una risposta ma che sia uno strumento che mescola e confonde gli interventi noi abbiamo avuto negli ultimi anni diversi interventi che si sono sovrapposti una con l'altro rispetto alla povertà ogni governo che è arrivato ha provato a dare una risposta e ad aggiungere una stratificazione in questo caso abbiamo aggiunto la stratificazione di mescolare il tema sociale con il tema della ricollocazione lavorativa il tema della ricollocazione lavorativa è un tema più ampio non riguarda solamente il segmento della povertà è il paradosso del nostro paese che virtualmente nel contesto di cercare di dare una risposta alla povertà c'è un sistema strutturato di ricollocazione di queste persone mentre non c'è un sistema di ricollocazione generale per tutte le lavoratrici lavoratori cioè il paradosso è che se sono povero scusate la provocazione ma se sono povero ho un percorso che mi prova a riconnettere col mondo del lavoro se invece vengo espulso dal mondo del lavoro perché c'è una crisi perché c'è una ristrutturazione eccetera eccetera nessuno si occupa della mia condizione di disoccupazione stress ovviamente il concetto per provare a farmi capire noi abbiamo bisogno secondo me poi so che ci sono opinioni diverse rispondere alle esigenze della povertà che ha una certa condizione fotografia e da un lato rispondere complessivamente alle necessità del mondo del lavoro parliamo tanto della situazione di transizione tecnologica digitale della transizione della sostenibilità ambientale che deve provare a cambiare i modelli di produzione eccetera 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 ma se non ci occupiamo di come riqualifichiamo la forza lavoro di come facciamo passare anche qui scusate la semplificazione per ragioni di tempo i lavoratori da un posto di lavoro all'altro se non ci preoccupiamo di rendere il lavoro più stabile e noi di fatto continueremo ad ingrossare le fila della povertà e anche qui scusate la semplificazione alle quali poi cercheremo di dare risposte continuamente disorganiche noi ci dobbiamo occupare del lavoro da una parte delle politiche del lavoro da una parte creando un sistema generale del paese che non lascia da solo i lavoratori nel momento in cui perdono il posto di lavoro qualunque lavoro esso essi facciano cioè qui non c'è una condizione di privilegio rispetto agli altri ci deve essere un sistema governance pubblica che si occupa di individuare dove investire nel lavoro quali strumenti mettere in campo come ad esempio la formazione cosa di cui si parla purtroppo per niente appunto nel dibattito elettorale e poi ci sono da un altro punto di vista gli interventi attraverso ovviamente economici di investimento economico di servizi di welfare di sistema di welfare in generale che devono riguardare gli strumenti i sussidi e quant'altro che devono riguardare la risposta a una condizione di povertà altrimenti oggi e qui chiudo è la condizione che se noi lasciamo un lavoratore da solo nel contesto milanese di perdita del posto di lavoro in questo contesto in cui per accedere a una casa in affitto devi mettere 1400 1500 euro al mese se voglio comprare casa per una famiglia almeno 300.000 euro li devo mettere se non ho lavoro e soprattutto guardo le nuove generazioni quali condizioni di vita noi stiamo creando noi stiamo creando condizioni di espulsione dalla società non solo dal territorio ma proprio dalla società l'estromissione dalla società ecco perché allora io penso e auspico che a un certo punto si prenda coscienza nel campo della politica di questa condizione che non sia un atto di diciamo così di puro volontariato quello di volersi occupare della condizione sociale del nostro paese ma che sia invece un ci sia invece un'idea di politica che prova a mettere in campo delle risposte altrimenti come dico sempre noi continueremo non solo ad alimentare la povertà ma continueremo ad alimentare il disagio sociale la rabbia sociale quindi le risposte populiste sovraniste che sono molto semplici molto facili molto immediate ma che poi a lungo termine in realtà poi quelle risposte vere e concrete di cambiamento sociale non riescono a metterlo in campo grazie grazie Massimo adesso la parola a Stefania Sabattinelli docce studiosa grazie buon pomeriggio a tutti grazie molte per l'invito anch'io sono felice mi fa piacere partecipare a questo intervento per discutere questo volume a mio parere molto importante un libro che è importante secondo me per gli studenti per gli studiosi e per chi ha vario titolo decide o realizza le politiche sociali in Italia cercherò di non ripetere troppo ciò che è già stato detto da chi mi ha preceduto però anche io vorrei sottolineare di aver apprezzato moltissimo lo sguardo di lungo periodo adottato nell'analisi è un'analisi che tiene insieme sia la lettura del fenomeno sia la lettura delle politiche a contrasto e il racconto di come queste sono state adottate o più spesso anche non adottate per lungo tempo e anche i discorsi che hanno accompagnato sul lungo periodo l'evoluzione del fenomeno e delle politiche a contrasto il discorso pubblico il discorso politico il discorso degli esperti e la tensione anche degli esperti che non è stata sempre diciamo allo stesso livello è anche questo interessante e gli intrecci perversi che il discorso politico e il discorso pubblico come chi mi ha preceduto metteva in rilievo rispetto all'attualità spesso hanno avuto e mettendo in evidenza alcuni appunto tratti di lungo lunghissimo periodo per certi versi come alcuni profili di povertà che appunto sono rimasti al centro del modello di povertà italiano e che gli autori dicono con molta forza e più occasioni nel volume sono lungi dallo schiacciare su una lettura quasi antropologica quindi del fenomeno il modello di povertà italiano e questo alle sue ragioni storiche che lo spiegano ma anzi a mio avviso chiama in causa ancora più fortemente la responsabilità di chi era in posizione di responsabilità in diversi snodi molto rilevanti l'analisi diventa quasi cronaca man mano che ci avviciniamo alle crisi più recenti e poi ai giorni d'oggi alla crisi pandemica senza perdere la sua capacità analitica ma dico cronaca per la dovizia di particolari che è riportata e appunto alcuni snodi che gli autori spiegano efficacemente con un perverso intreccio tra le ambizioni di politics gli obiettivi di politics di chi è in posizione di responsabilità e invece le decisioni di policy cioè di definizione di che cosa poi viene effettivamente fornito in termini di risposte a prodotto dei risultati che in alcuni casi gridano vendetta penso in particolare alla penalizzazione dei bambini dei minori nel reddito di cittadinanza che gli autori spiegano di cui gli autori spiegano molto bene la dinamica che ha portato a questo risultato ma certo non possiamo giustificarlo perché nessuno può dire di non aver saputo che i minori erano e le famiglie con minori e soprattutto le famiglie con più minori erano da sempre un profilo a rischio nel nostro paese e con scarso o inefficace sostegno si potrebbero tirare moltissimi fili dal libro scelgo di tirar ne scelgo due ho citato i minori e non insisto su questo se no posso essere tacciata di parlare quasi sempre solo di bambini anche se naturalmente la povertà dei bambini faccio solo un inciso ci chiama in causa ancora di più rispetto in qualche modo alla povertà degli adulti o degli altri profili perché la dico con quello che potrebbe essere uno slogan la povertà dei bambini è la povertà del futuro perché si intreccia così strettamente con rischi di povertà educativa e con dinamiche di trasmissione intergenerazionale della povertà che nel nostro paese sono molto forti sulla povertà mentre ci con la povertà educativa poi la crisi pandemica ha messo diciamo acceso i riflettori in maniera molto forte invece propongo altre due questioni alla alla discussione che emergono in filigrana dalle analisi del volume uno è il tema della governance multilivello di questo campo di policy e di come se e come sta cambiando e cambierà soprattutto data l'accelerazione e l'effervescenza che effettivamente finalmente potremmo dire si è avuta negli ultimi anni dopo un periodo fin troppo lungo di inerzia e di stagnazione con una assunzione di responsabilità dell'attore nazionale molto forte dal punto di vista del finanziamento dal punto di vista della normativa per chi si occupa di governance multilivello questo è un tema interessantissimo la governance multilivello di questo campo di policy è già cambiata per il solo fatto che abbiamo da qualche anno una misura di reddito minimo nazionale che agisce su tutto il paese e che prima non avevamo e diciamo questa è una buona notizia dal punto di vista una misura che costituisce anche un livello essenziale l'unico il primo livello essenziale dal punto di vista dell'assistenza sociale un elemento che quindi ci fa intravedere una riduzione per il futuro per il presente e per il futuro una riduzione delle diseguaglianze territoriali che nel libro sono raccontate molto bene che erano all'ordine del giorno quando il sostegno monetario non contributivo era appannaggio esclusivo degli enti locali e degli attori anche non pubblici locali così diversificati sul territorio come sappiamo mi chiedo però anche vi chiedo se questo non promette di realizzare in realtà una nuova configurazione di diseguaglianza territoriale laddove avremo uno zoccolo duro un primo scalino di protezione di sostegno che sarà uguale su tutto il territorio nazionale ma tutto quello che si muove intorno al sostegno monetario rimane rimane ciò che era prima in larga parte comunque caratterizzato da quei profili di diseguaglianza territoriale che conosciamo bene e allora secondo me uno dei temi è come il welfare locale sarà in grado di riorganizzarsi intorno all'esistenza di questo nuovo elemento pivotale e che cosa farà il welfare locale che cosa faranno i tanti sistemi di welfare locale guardo il sommigione qua in avanti delle risorse che fino a prima dell'introduzione delle misure nazionali mettevano in campo per sostituire ciò che mancava questo io penso che sarà un tema di ricerca molto interessante perché se è stato complesso da parte degli enti locali nelle regioni dei comuni agire come first mover o only mover in assenza del piano di intervento nazionale ora non si tratta di intervenire al posto di si tratta di capire come quale uso migliore fare delle risorse non soltanto finanziarie nelle risorse diversificate che già venivano citate per costruire un sistema di interdipendenza utile efficace e che sia anche territorialmente coerente cioè che risponda ai bisogni diversificati sul territorio e quindi diciamo credo che questo confermerà per molti versi nei profili di disuguaglianza che conosciamo forse in alcuni casi li complessificherà con un ulteriore elemento di complessità che aggiungo ma solo per ricordarlo a me stessa perché tutti qui presenti lo sanno meglio di me che la misura nazionale introduce un sostegno uguale su tutto il territorio nazionale a fronte è già stato detto di standard di costi della vita molto differenziati e questo mi porta al secondo punto che volevo citare è stato citato in chiusura dall'intervento che mi ha preceduto che è il tema del nesso con la casa nel libro il nesso povertà lavoro è chiarissimo ed è chiarissimo che il nesso non è soltanto col lavoro che manca ma è molto spesso col lavoro che c'è con la povertà del lavoro che c'è è citato un po' in filigrana nel volume uno dei fronti più caldi che rendono difficile per gli individui e le famiglie far fronte alle spese che consentono la vita quotidiana e gli investimenti per il futuro è la casa in alcuni contesti più che in altri in Italia ma è vero è un tema che concerne tutto il paese per la scarsità delle politiche a sostegno che abbiamo avuto che sono state scarse fino a un certo punto forse non più esistenti mi verrebbe da dire da un certo punto in poi perché sono talmente scarse che si fa fatica a a rilevarle e però appunto i costi della casa sono particolarmente gravosi proprio nei contesti più attrattivi economicamente che sono anche quelli dove si rilevano le condizioni contrattuali di lavoro che venivano citate prima io ho notato con molto interesse l'emergere di questo tema con forza sulla stampa a Milano nelle ultime settimane questo tema ricorre molto fortemente e credo che questo aspetto richiami a un tema che gli autori trattano in modo chiaro nel libro che è l'interdipendenza tra i campi di policy e tra le misure di policy e anche qui dico una cosa soltanto per ricordarla a me stessa ma è stato un traguardo pur con tutte i difetti che sono attribuiti al reddito di cittadinanza è stato un traguardo inserire nel nostro sistema di contrasto alla povertà una misura nazionale ma non basta questa è la grande banalità che volevo dire non basta e in che senso non basta non basta anche negli intrecci di nuovo non necessariamente virtuosi che si realizzano con gli altri capitoli di spesa il reddito di cittadinanza per esempio pone la questione anche soltanto a livello simbolico la questione del costo della casa anche se gli autori ci raccontano in che modo e per quali ragioni si è arrivati a questa diciamo sottolineatura e anche queste non sono particolarmente edificanti per la politics ma con una soluzione uguale per tutti e senza agire sul sistema di produzione della casa pubblica da un lato nella produzione di condizioni per la casa accessibile affordable dall'altro il tema rimane in evaso soprattutto in alcune aree del paese fermerei qui vi ringrazio bene a questo punto voglio passare la parola ai tre autori io non ho concordato prima l'ordine ma io procederei secondo l'ordine se va bene l'ordine che è scritto sulla copertina Chiara ti va bene se era prima che interviene ma direi forse di dare la parola a Davide visto che lì è l'unico presente mi sembra che abbia un diritto di priori è un argomento convincente grazie Chiara grazie a Chiara per appunto avermi ceduto il tuo turno e soprattutto grazie ai nostri discussant che hanno avuto così la gentilezza di leggere il libro e di proporci alcuni temi di discussione ovviamente io non posso rispondere a tutte le sollecitazioni che ci sono state sollevate provo magari a trattare qualche tema e poi appunto Chiara e Enrica sicuramente potranno integrare un po' le cose che io dirò dico solamente una cosa un po' sulla come si può dire l'impianto di fondo del libro noi quando abbiamo iniziato a progettare a pensare a questo libro che è uscito prima in un'edizione inglese e poi in questa edizione italiana che però ovviamente è stata rivista abbiamo migliorato alcuni passaggi che erano risultati forse un pochino deboli nell'edizione inglese l'abbiamo aggiornata abbiamo potuto tenere conto l'edizione inglese è stata pubblicata nel settembre del 2020 quindi noi l'abbiamo consegnata avevamo finito il libro all'inizio dell'anno quindi quando poi c'è stata la pandemia quindi un po' di corsa abbiamo fatto una postfazione abbiamo cambiato l'introduzione abbiamo fatto una postfazione cercando di tenere conto appunto anche dell'irrompere della pandemia di cui però chiaramente non potevamo avere ancora la percezione o comunque qualche dato che tenesse che fosse in grado appunto di immaginare quali sarebbero state le conseguenze sul fenomeno della povertà nel nostro paese comunque detto questo un po' l'idea di fondo il concetto su cui abbiamo cercato di lavorare è quello di regime di povertà quindi il libro dal punto di vista così diciamo teorico si basa sull'idea appunto che la povertà sia un fenomeno strutturale e che i fattori delle diverse dimensioni di funzionamento di una determinata società determinano anche le caratteristiche della povertà in quello specifico contesto quindi noi evidenziamo le caratteristiche appunto peculiari della povertà nel nostro paese in relazione al modello di regolazione complessiva che quindi include il funzionamento del mercato del lavoro che è stato ampiamente citato i modelli di formazione delle famiglie e le modalità di relazioni che si instaurano all'interno delle famiglie il sistema di welfare che è stato ampiamente ricordato quindi un po' il modello il sistema produttivo anche del paese non solamente il mercato del lavoro che generano alcune condizioni di particolare svantaggio a danno ovviamente di alcune categorie sociali e su questo appunto impostiamo poi tutta la nostra analisi nel primo capitolo in una chiave in un'ottica comparativa poi l'idea comunque di comparare il sistema italiano la povertà in Italia con quello che succede negli altri paesi percorre un po' abbiamo cercato di mantenerla un po' in vari punti del libro quindi un po' le cose che sono state evidenziate sia per esempio la questione della povertà nonostante il lavoro che è stata citata se non sbaglio un po' da tutti sia la questione del modello di welfare e del tipo di governance sono tutti aspetti appunto che caratterizzano poi le specificità della povertà nel nostro paese che come è stato detto colpisce in modo particolare caratterizza la povertà in Italia rispetto agli altri paesi i bambini quindi le famiglie con bambini le famiglie che sono povere benché ci siano al proprio interno dei componenti delle famiglie che hanno un'occupazione regolare quindi tutto il tema dell'inadeguatezza dei redditi dei salari che è stato sollevato in particolare dal segretario della Camera del Lavoro e infine appunto gli stranieri allora noi diciamo questi questi tre gli stranieri che hanno un rischio di povertà enormemente superiore agli italiani considerate che la povertà tra le famiglie composte solo da italiani è intorno al 5% la povertà assoluta tra le famiglie composte solo da stranieri è quasi il 30% quindi gli stranieri è come se riassumessero un po' tutti questi fattori in modo esponenziale in un certo senso quindi tutti gli elementi che determinano svantaggio tra gli italiani tra gli stranieri sono particolarmente concentrati e infine l'altro aspetto molto caratteristico anche in altri paesi ci sono differenze territoriali ma non così drastiche come quelle che ci sono in Italia è appunto la frattura tra nord e sud frattura che da un punto di vista storico si è addirittura allargata dagli anni 70 ad oggi con una piccola tendenza a richiudersi negli ultimi anni ma la crisi indotta dalla pandemia ha di nuovo allargato questo divario tra centro nord da una parte e sud dall'altro detto questo questo non significa che che non ci sia povertà al nord naturalmente noi abbiamo osserviamo una tendenza all'aumento della povertà anche al nord e non significa che non ci sia povertà in una adesso dico un'assoluta banalità in una città come Milano nella quale tanti di noi hanno fatto molti studi hanno messo in evidenza appunto il fatto che anche nella città più ricca decisamente più ricca d'Italia motore economico eccetera eccetera ci siano sacche di povertà importanti che tendono anche probabilmente ad allargarsi a casa un po' dei fenomeni che sono stati citati tra cui appunto l'aumento del costo dell'abitazione forse quello più evidente quello che salta maggiormente all'occhio che determina a sua volta un processo anche di selezione della popolazione questo è un fenomeno che avviene ormai da almeno da una trentina d'anni il fatto che le famiglie meno abbienti diciamo così tendono ad uscire dalla città che viene occupata soprattutto da famiglie più benestanti single e per un verso per un altro verso per tutta quella parte di popolazione che è composta in buona parte anche se non esclusivamente da stranieri che svolge tutte quelle attività di servizio che sono richieste dalla fascia di popolazione più ambiente quindi quello che si sta a me o che a me sembra e anche ad altri in effetti sembra che stia avvenendo è un po' un processo di polarizzazione della città anche dal punto di vista della distribuzione all'interno appunto dello spazio urbano quindi che ci siano tendano a formarsi dei quartieri sempre più omogeneamente occupati da fasce di popolazione svantaggiata e questo è un problema intanto in una città poi tutto sommato piccola dal punto di vista geografico è un problema per tutti io di cui sottolineo sempre questo aspetto è un problema ovviamente per le persone più svantaggiate perché non riescono sono messe sotto stress nella loro capacità di soddisfare i propri bisogni dal fatto di vivere in una città così impegnativa così costosa da tutti i punti di vista ma costituisce un problema anche per chi ha magari meno fattori di vulnerabilità si diceva prima del rischio di un aumento delle tensioni sociali della conflittualità sociale eccetera secondo me questo è un un rischio effettivamente da tenere in considerazione cioè l'eccesso di disuguaglianza questo è ampiamente dimostrato da un'infinità di studi aumenta anche la violenza la violenza sociale la conflittualità e questo ovviamente ricade su tutta la popolazione di un determinato contesto quindi questo è un elemento da tenere in considerazione la crisi pandemica ha diciamo esasperato un pochino queste tendenze la crisi appunto giusto per ricordare giusto un numero aumentato di un milione di individui in condizioni di povertà assoluta nel nostro paese siamo passati adesso vado un po' a memoria da 4 milioni e mezzo di individui italiani in condizione di povertà a 5 milioni e mezzo quindi tanto per dare un'idea delle dimensioni del fenomeno facendo precipitare appunto in questa condizione anche famiglie ci sono degli studi anche qualitativi molto interessanti famiglie che si consideravano un po' al riparo da questo tipo di rischio quindi la perdita del lavoro è una famiglia monoreddito che improvvisamente non è più in grado di pagare il mutuo di pagare l'affitto di pagare la retta dell'università per esempio del proprio figlio e questo appunto è andato a questo l'effetto della crisi si è scaricato si è manifestato seguendo il modello strutturale a cui facevo riferimento prima questo appunto è un'altra cosa interessante noi facciamo vedere nel libro per esempio il trend della povertà a seconda delle caratteristiche della famiglia e vediamo che c'è un trend costante dall'inizio degli anni 2000 di aumento della povertà nelle famiglie con bambini con uno o due e quando hanno tre o più bambini non ne parliamo e una diminuzione della povertà tra nelle famiglie anziane sia composte da una sola persona che composte da una coppia appunto di anziani ora non si tratta di dire la povertà di uno è sbagliata la povertà dell'altro è giusta però come diceva anche Stefania Sabatinelli prima lei lo chiamava un po' uno slogan se ricordo bene però effettivamente è così la povertà dei bambini di oggi è un problema gigantesco perché i bambini poveri oggi saranno hanno molte probabilità di essere dei poveri adulti domani e quindi di mettere al mondo dei bambini che a loro volta saranno poveri quindi il fatto che noi siamo in un sistema in un modello che penalizza così tanto i bambini cosa che non avviene in moltissimi altri paesi europei dove le famiglie con bambini sono quelle meno a rischio di povertà rispetto agli altri tipi di famiglie il fatto che noi abbiamo un modello di questo genere è una cosa si citava la politica che veramente sbalordisce che sia totalmente assente mi sembra dai discorsi elettorali che si stanno facendo in vista appunto delle elezioni dove il reto di cittadinanza rischia tantissimo ok rischia tantissimo di scomparire e e quindi questo aumento di un milione di poveri sarebbe stato con la con la crisi pandemica sarebbe stato molto superiore se non ci fosse stato reito di cittadinanza che è stato introdotto fortunatamente nel 2019 ed è entrato poi al regime nel 2020 mettendo a riparo appunto i beneficiari dagli effetti drammatici che avrebbe avuto la pandemia anche su queste famiglie io mi fermerei qua per appunto ci sarebbero tantissimi altri temi però grazie le mie colleghe abbiamo adesso le nostre due autrici Chiara Saraceno prego grazie grazie a e anche a David per aver fornito il quadro complessivo del nostro ragionamento del nostro lavoro mi permetto di aggiungere alle condizioni strutturali proprio per capire come mai l'Italia è caratterizzata rispetto ad altri paesi penso al nord Europa ad esempio prevalentemente da una povertà familiare cioè non delle persone che vivono da solo certo ci sono anche persone che vivono da solo che sono povere ma sono soprattutto famiglie nel senso proprio del termine non nel senso anagrafico per cui può essere famiglia una persona sola famiglie con minorenni perché uno dei fattori di lunghissimo periodo che in termini comparativi spiega questa caratteristica italiana della povertà e del rischio di povertà è la forte prevalenza tuttora anche oggi delle famiglie monoreddito cioè delle famiglie anche di coppia e con figli ma in cui c'è un solo percettore di reddito quindi in Italia le famiglie che rischiano di essere squilibrate in termini di bilancio familiare dall'arrivo di un figlio in più dalla messa di cancassa integrazione dalla malattia del principale percettore di reddito o dalla perdita del lavoro sono più che in altri paesi dove invece la quota delle famiglie monoreddito è inferiore perché sono famiglie monoreddito perché ce n'è così tante perché l'Italia ahimè come ben sappiamo ha ancora un tasso di occupazione femminile molto basso a livello nazionale e ancora di più nelle regioni più povere che sono nel mezzogiorno e il tasso di occupazione femminile che pure è cresciuto dagli anni 90 ad oggi anche se è un ritmo molto inferiore di quanto si è avvenuto in un paese sorella la Spagna con cui ci confrontiamo dagli anni 90 negli anni 90 la Spagna aveva tassi di occupazione femminile più bassi dell'Italia ma alla fine del secolo scorso all'inizio di questo nuovo in realtà invece ci aveva superato il motivo sono le politiche assenti di conciliazione una domanda di lavoro non particolarmente amichevole modelli di genere molto ancora rigidi perché anche le dimensioni culturali contano questa cosa che vi dico è stata stimata su dati pre-pandemici poi non ho più rifatto la stima ma pensate che per un bambino per un minorenne perché noi diciamo bambini ma in realtà dovremmo dire minorenni per un minorenne il rischio di povertà a un meno no diciamo il contrario diminuisce di due terzi se entrambi i genitori sono occupati noi dobbiamo ricordare che la maggioranza dei bambini dei minorenni in povertà assoluta non vive in famiglie in cui nessuno lavora ritorniamo alla questione delle famiglie di lavoratori povere è vero che vivere in una famiglia in cui nessuno lavora espone a un altissimo rischio di povertà ma la maggior parte dei minorenni che si trovano in condizioni di povertà assoluta anche relativa ma adesso parliamo di quella assoluta vive in famiglie in cui c'è almeno un occupato e se invece si guarda quando ce ne sono almeno due e se i due sono i genitori questo rischio diminuisce di due terzi circa quindi la prima politica di contrasto alla povertà e questo mi porta al secondo che volevo fare è il sostegno all'occupazione femminile perché avete molto ragione tutti e tre a dire che le politiche di contrasto alla povertà vanno integrate nell'insieme delle politiche ed è vero anche che noi di abitazione abbiamo parlato segnalandolo come problema ma senza approfondirlo anche perché lo spazio era quello che era e occorrevano anche dati più dettagliati comunque va detto che i poveri vivono in affitto più spesso che i non poveri quindi il costo dell'abitazione non solo incide pesantemente sui bilanci su bilanci modesti ma è anche un costo a fondo perduto mentre invece pagare un mutuo è una forma di investimento quindi spendono in proporzione di più ma avendo meno in termini di investimento in cambio comunque è vero questa storia che l'abitazione è importante ma sono importanti anche le politiche famiglie per questo riteniamo importante l'introduzione dell'assegno unico perché prima c'erano molti poveri cadevano tra due sedie che non avevano nell'assegno al nucleo familiare né avevano un reddito sufficiente per fruire delle detrazioni fiscali quindi l'assegno unico bisognerà vedere che impatto ha sulla povertà ma è interessante questo per molte famiglie di laboratori a reddito modesto può essere la cosa che aiuta a uscire almeno dalla povertà ma l'altro è il sostegno all'occupazione delle madri e noi abbiamo visto che durante non solo in generale le madri sono meno occupate delle non madri ma durante la pandemia è aumentato il divario lo dice il rapporto annuale dell'Istat e il divario non solo tra madri e padri in termini occupazionali tra uomini e donne tra madri e padri ma anche tra donne tra donne con figli e donne senza figli quindi davvero avere un figlio quando ci si riempie la bocca di ambizioni pronataliste di sostegno alle scelte di fecondità bisogna dire che nei fatti per molte donne avere un figlio soprattutto avere un figlio in più per molte donne ma per molte famiglie espone a un rischio di povertà se stesse e eventualmente i figli che ci sono quindi quando si parla di politiche di contrasto alla povertà ha ragione Bognini a dire non c'è solo il reddito di cittadinanza è chiaro il reddito di cittadinanza è quella cosa di ultima istanza reddito di cittadinanza comunque lo vogliamo chiamare che consente a chi non ha risorse sufficienti per soddisfare i propri bisogni di base di soddisfarli mentre che lavori o non lavori dovrebbe dire che abbia un'occupazione o non un'occupazione bisognerebbe garantire a tutti di poter soddisfare i propri bisogni di base e quelli della propria famiglia e questo ma però le politiche di contrasto alla povertà dovrebbero essere quelle anche che impediscono o che riducono la necessità di dover ricorrere anche a un sostegno reddituale perché ci sono politiche della casa pubbliche adeguate perché ci sono lavori decentemente remunerate perché una donna non deve scegliere se occuparsi dei figli o dei genitori fragili o dei suoceri fragili o lavorare e così via quindi vere politiche cioè c'è una politica di contrasto alla povertà che potremmo dire è di tipo immediato cioè soddisfo i tuoi bisogni mentre ce li hai e anche evitando che tutti depauperi ulteriormente anche in termini di capitale umano di necessità di accettare purché sia quindi anche non migliorando le tue chance professionali e così via quindi questa è una misura di pronto intervento mi verrebbe da dire le forme di sostegno al reddito ma dall'altro lato occorre anche mettere in campo delle politiche che evitino agli individui e alle famiglie di cadere in povertà e qui la questione del salario la questione io sono favorevole non so se il segretario della CGL sia d'accordo ma comunque io sono favorevole all'introduzione di un salario minimo però poi ci vuole anche un orario di lavoro minimo perché se è un salario minimo ma lavoro solo cinque ore alla settimana mi serve poco anche se è un salario più del minimo quindi le due cose devono andare assieme e contemporaneamente forse bisogna anche pensare al fatto che se un lavoro non consente un salario un reddito da lavoro non consente di soddisfare i propri bisogni non c'è niente di male di umiliante integrarlo in qualche modo ad esempio cosa che non avviene con il reddito di cittadinanza attualmente il reddito di cittadinanza è per certi versi punitivo nei confronti di chi aumenta le proprie lavorative o trova un lavoro perché viene tolto per ogni euro guadagnato alla fine viene tolto prima 80 centesimi e poi tutto quanto e quindi è totalmente un disincentivo la commissione che ho presieduto aveva detto questa cosa banale che non avevamo inventato noi di ridurre questa liquida marginale troppo alta ma la cosa non è passata vorrei rispondere al problema che poneva Stefania Sabattinelli quello del rapporto tra misure nazionali e welfare locali anch'io penso che da sé come dire proprio perché in Italia a lungo almeno per quanto riguarda i servizi da un laccio a parte la sanità e i sostegni al reddito dall'altro e i welfare sono stati solo locali e per nulla nazionali l'introduzione del reddito minimo in qualche modo ha riequilibrato la cosa tuttavia non c'è dubbio che continueranno queste differenze che però potrebbero essere usate anche in modo per rafforzare o meglio per compensare le possibili disuguaglianze create da un reddito di cittadinanza uguale su tutto il territorio nazionale una cosa molto discussa cioè è vero che il costo della vita a Milano è più alto che a Catania probabilmente se noi guardiamo i prezzi di mercato se però noi ci mettiamo anche i beni pubblici forse la cosa questa è una discussione che va avanti da moltissimo tempo anche tra gli economisti eccetera ci sono posizioni diversi ma io dico sempre che vanno calcolati anche i beni pubblici curarsi avere una scuola a tempo pieno eccetera eccetera può fare una grande differenza secondo dove si vive oltre al fatto che se io confronto Milano e Catania o Canicati eccetera è subito chiaro che la differenza di costo della vita è elevata ma tra un paese della bassa e Napoli o Catania eccetera forse le differenze non sono così enorme quindi introdurre livelli diversi per il reddito di cittadinanza secondo me sarebbe estremamente rischioso e forse contrario anche alla nostra idea che siamo cittadini di un paese unico qui però c'è lo spazio perché possano intervenire i welfare locali non solo perché producono quei beni pubblici che ahimè continuano a essere troppo enormemente differenziati chi si occupa di scuola anche sul fatto di quello ma anche di politiche di conciliazione l'ha ben chiaro che cosa voglio dire questa differenziazione ma che possono anche compensare le differenze di costo della vita sul mercato ad esempio la commissione di valutazione del reddito di cittadinanza aveva proposto esattamente questo che il reddito di cittadinanza venisse considerato lo zoccolo minimo e che poi le regioni potessero sia alzare la soglia quindi la soglia d'accesso sia integrare comunque il reddito è una valutazione ahimè che temo fuori tempo massimo perché con quello che con i chiari di luna che si annunciano con il 25 di settembre temo che di questo parleremo come di un fatto di cose storiche spero di no ma lo temo fortemente aggiungo e finisco perché non voglio togliere la parola ad Enrica riprendendo qualcosa che aveva detto anche l'assessore Bertoli è una storia lunga quella della della non criminalizzazione ma Enrica direbbe moralizzazione della povertà cioè l'idea che la povertà è colpa dei poveri fondamentalmente noi nel nostro libro la tracciamo la rintracciamo fin dalla prima dalla indagine sulla miseria l'inchiesta sulla miseria in Italia la Tanele secondo dopoguerra che partita con grandissime nobili ambizioni è finita con il commento che i poveri sono tali perché sono sbevazzoni pigli nulla facenti eccetera eccetera cioè venne chiusa la cosa con questo commento e poi abbiamo dovuto aspettare adesso non so più quanti anni decenni per avere una misura ma questo periodico vuoi criminalizzazione vuoi infantilizzazione del povero cioè del povero come cittadino non del tutto abile e non del tutto campus sui è una linea lunghissima che attraversa a destra e a sinistra a destra e a sinistra la storia italiana per motivi diversi a destra e a sinistra ma non è solo un atteggiamento di destra conservatore eccetera è un atteggiamento che personalmente dato che mi trovo il lavoro su questa cosa da più di 30 anni dall'epoca della commissione della prima commissione di povertà quindi la notte dei tempi nell'86 ho ritrovato moltissimo anche a sinistra adesso è un pochino corretta ma questa idea che solo il lavoro vi ha dignità e che quindi non si possa dare sostegno al reddito se non c'è almeno un'ora di lavoro è una cosa abbastanza continua e anche il timore che se si introduce un sostegno al reddito per i poveri questo entri in competizione con i salari minimi quindi questo è un problema non sull'italiano ma che in Italia ha questa storia lunghissima grazie grazie Chiara l'ultima autrice Enrica Morlicchio sì io dirò solo veramente tre cose vi sentite perché mi sento un eco aspetta forse io ecco sì adesso va bene dirò solo tre cose molto veloci perché già è stato detto tanto per prima cosa vorrei dire che poco prima che iniziassimo la presentazione del libro mi è arrivata la comunicazione da parte della casa editrice che è andata esaurita la prima stampa quindi era una seconda di stampa e questo devo dire che non era un risultato atteso perché questo è un libro non è un instant book è un libro accademico che richiede un certo impegno nella lettura di grafici di tabelle che anche se diciamo il libro fornisce una guida alla loro interpretazione ma richiedono un certo sforzo per essere compresi e quindi questo è un risultato importante perché uno dei tentativi dei motivi per cui abbiamo scritto questo libro era quello di riportare il dibattito sulla povertà che anche per effetto dell'interruzione dell'esperienza della commissione di povertà stava un po' deragliando su binari che erano i binari dell'emotività della manipulazione dei poveri per cui diciamo il povero era diventato una sorta di animale mitologico non era più appunto come ricordava chiaro una famiglia monoreddito con bambini molto spesso immigrata e molto spesso residente nel mezzogiorno quindi credo che da questo punto di vista sia stato già un successo questo libro un buon risultato e di questo sono devo dire contenta e vorrei condividere appunto questa soddisfazione la seconda cosa per cui credo che sia importante questo libro è che sottolinea come quelli che nel volume inglese abbiamo chiamato i drivers i meccanismi di produzione della povertà sono meccanismi che agiscono prevalentemente a livello nazionale e quindi è vero c'è tutta la complicazione del discorso che ha già diciamo posto sul piatto Stefania Sampatinelli ed ha ripreso Chiara Saraceno ma anche l'assessore ha accennato al problema della frammentazione degli interventi però è anche vero che la soluzione dei problemi della povertà non è anche cercata prevalentemente a livello nazionale perché c'è un profilo quello che abbiamo chiamato un regime di povertà che è nazionale che differenzia il caso italiano dagli altri regimi europei che noi abbiamo analizzato nella prima parte che ha più carattere comparativo e rispetto a questo io vorrei fare solo un esempio sollecitato da quello che diceva Bonini rispetto agli interventi sul mercato del lavoro secondo me noi dobbiamo dire con forza che la coperta è troppo corta ed è una coperta che va va allargata bisogna aggiungerci altri pezzi sia sul piano della ricollocazione lavorativa sia sul piano del sostegno al reddito sia sul piano dell'offerta di servizi perché c'è un po' oggi una narrativa che questa coperta è molto corta e quindi viene tirata dalla parte dei poveri a discapito del centro medio impoverito oppure di altri soggetti come diceva Bonini che vengono un po' diciamo trascurati sul piano delle politiche di ricollocazione lavorativa e invece così così non è e piuttosto possiamo dire che i poveri sono anche invece ancora di più danneggiati dal fatto che c'è una domanda di lavoro che è carente e che appunto diciamo rende poverani i progetti di ricollocazione lavorativa e faccio l'esempio relativo alla città di Napoli non vi dico che è stato bandito c'è stato un bando che è l'assunzione di 500 posti nella società che si occupa della nettezza urbana quindi 500 posti per le turbine ebbene si sono presentati 26.000 candidati e però di questi candidati 1.232 sono laureati quindi noi abbiamo chiaramente un effetto di spiazzamento dei laureati che probabilmente avranno risposto in maniera più soddisfacente ai test rispetto invece a un'offerta di lavoro meno qualificata con minor titoli di studio che in passato appunto era quella che più si rivolgeva a questo tipo di occupazione quindi pensare di mettere contro alcuni tipi di soggetti rispetto ad altri è sbagliato ma è sbagliato non solo politicamente ma anche sul piano poi della soluzione dei problemi e bisognerebbe spostare un po' più l'attenzione ma è inutile perché lo dico a un sindacalista che già lo sa e lo pratica più sul piano invece della domanda di lavoro della qualità della domanda del lavoro del tipo di domanda del lavoro accompagnando però i soggetti più fragili chiara giustamente ricordava i bassissimi tassi di occupazione femminile al sud le donne con soltanto la licenza media hanno dei titoli cioè dei tassi di occupazione femminili che sono veramente a livello di esclusione lavorativa e questo tipo di soggetti vanno accompagnati con politiche i francesi dicono politiche molto sociali non basta semplicemente porli sullo stesso piano nella competizione appunto per i posti di lavoro l'ultima cosa che volevo dire è stato richiamato il problema della povertà energetica e la povertà energetica colpisce doppiamente i poveri perché li colpisce perché il costo del riscaldamento dell'energia delle bollette elettriche va a incidere su dei bilanci già in sofferenza ma poi ancora di più li colpisce i poveri perché essendo come ricordava Chiara prevalentemente in affitto non possono fare un adicamento energetico perché queste sono scelte che dipendono dal proprietario dell'abitazione e sappiamo già anche come è difficile a volte ottenere che venga tolta una macchia di umidità o che venga fatto un minimo di manutenzione e quindi il fatto che si venga destinato una parte del reddito da trasferimento pubblico anche per esempio al miglioramento delle condizioni abitative al miglioramento dell'alimentazione al miglioramento delle condizioni di salute un'elicente di una cittadina dell'area di coletano mi diceva che da quando c'è il reddito di cittadinanza le famiglie gli portano più frequentemente i bambini a curare i denti che lavorano con la testa del reddito di cittadinanza questo per tornare e poi finisco alla premessa iniziale del povero come animale mitologico e chissà che cosa farà mai di questo trasferimento con il reddito di cittadinanza e invece semplicemente cerca in qualche modo di rendere meno disagiate le condizioni di vita e di salute soprattutto dei bambini io mi fermo qua grazie grazie l'abbiamo fatta molto efficace io per scopo di coscienza chiedo sempre se qualcuno può fare qualche domanda scopo di coscienza sembra prego prego allora il microfono per cortesia maurizio signore grazie avevo una domanda per gli autori e anche per i relatori più una mia curiosità leggevo diciamo anni fa ero rimasto un po' così colpito da certi articoli di stampa una decina di anni fa quando si parlava della crisi della Grecia del debito greco che l'Italia era il paese dove c'era il maggior risparmio privato e questo coincideva anche con coincideva oppure era anche al fatto che l'italiano la maggior parte degli italiani una buona parte aveva il possesso della CA ci è discusso anche oggi e quindi mi chiedevo se dal punto di vista nazionale questo questo fatto se nel se gli autori del libro nell'analisi si trova una sorta di convergenza o una sorta di atteggiamento per in qualche modo utilizzare questo risparmio privato che è stato aggredito negli ultimi anni a favore invece riservare una situazione di debito pubblico che era chiaramente molto pesante già una decina di anni fa se ci si vede nell'analisi qualche elemento qualche filo conduttore che in qualche modo non dico volontariamente ma andasse a utilizzare questa riserva di risparmio privato del cittadino che chiaramente non è omogeneo in tutto il paese e che quindi può essere stato un elemento anche di creazione di povertà dove questo risparmio privato non c'era vediamo c'è qualcuno chi risponde degli autori o se c'è qualche altra domanda qualche altra domanda mi sembra forse almeno qui non so se in rete c'è qualche altra domanda che chiede a Maurizio non mi sembra no quindi c'è solo questa domanda rispondi tu io non ho capito bene provo a rispondere sì come giustamente poi diceva lei nel suo intervento buona parte di questo risparmio privato è costituito dalla casa di abitazione quindi non sono risorse effettivamente utilizzabili a meno che uno non sia talmente in una situazione di emergenza da vendere la casa in cui vive per far fronte a dei bisogni quindi questo è un primo aspetto a quanto diciamo so questa capacità di risparmio delle famiglie italiane si è enormemente ridotta in questi ultimi anni la crisi del 2008 ha implicato anche un'erosione dei risparmi da parte delle famiglie e poi comunque i soggetti più fragili più vulnerabili sono sempre stati quelli con minore capacità di risparmiare c'è una domanda che viene sempre fatta nelle indagini sulla povertà a livello europeo e a livello italiano che è saresti in grado di fronteggiare una spesa imprevista di 2-3 mila euro e una fetta molto importante della popolazione ti dice di no oppure un'altra domanda che viene fatta con i risparmi che hai saresti in grado di se perdessi le altre tue fonti di reddito di sopravvivere per mantenere il tuo stile di vita per sei mesi e anche lì tantissimi rispondono che non avrebbero questa capacità quindi questo risparmio privato quando è liquido è quindi sotto forma di depositi bancari o di investimenti nel mercato finanziario è molto concentrato nelle fasce più più avvantaggiate insomma più benestanti della popolazione e quindi diciamo che mi sembra un po' difficile che possa essere uno strumento per per affrontare anche perché poi i risparmi finiscono ecco quindi pochi risparmi che si possono avere finiscono no posso dire una cosa in realtà l'indagine della Banca d'Italia sulle famiglie italiane ha mostrato l'importanza del risparmio nel contenere pur nel disastro che c'è stato chiedo scusa sono sparita io ma non importa per contenere la la povertà il dilagare della povertà durante la pandemia quindi il risparmio è effettivamente uno strumento essenziale però come diceva David quanto meno reddito hai quanto più fai fatica arrivare a fine mese è tanto più difficile risparmiare anche se a volte famiglie che uno penserebbe che non possono risparmiare in realtà cercano di farlo da questo punto di vista io trovo particolarmente perverso il fatto che nelle regole del reddito di cittadinanza è obbligato cioè se non si spende tutto quello che si riceve nel mese il mese dopo l'importo è decurtato dalla parte non spesa il che è effettivamente una cosa un po' assurda perché anche al di là del risparmio di lungo periodo non tutte le spese uno non compra le scarpe e il figlio porta dal dentista il figlio tutti i mesi e quindi e invece perché c'è quest'idea perversa come che diceva prima Enrica mitologica del povero per cui mi è capitato in una conferenza stampa di sentirmi dire da una giornalista e beh se non spendono tutto vuol dire che non hanno bisogno no quindi sarebbe la dimostrazione e questo è assurdo so che è sparita la mia videocamera ma non so bene come fare comunque ti sentiamo benissimo Chiara va bene questi piccoli incidenti capitano spesso io non vedo altre domande ah sì c'è un'altra domanda Maurizio per cortesia tornate Chiara eh sì non so se si sente si sente si sente vai tranquilla molte grazie per questa presentazione mi è sembrata completa è parecchio interessante mi sembra che nella discussione soprattutto lì all'europeo si enfatizzi molto il tema anche delle politiche educative quindi il ruolo dell'educazione della formazione come argine in qualche modo alla povertà e come fattore di inclusione sociale quindi un po' mi piacerebbe sollecitare in qualche modo una riflessione in questo senso secondo voi è troppo semplicistico questo discorso ehm basato sull'idea di opportunità in qualche modo e di eh inclusione sociale che parte appunto dall'educazione ehm sin dall'infanzia in qualche modo o piuttosto perché diciamo in questo incontro eh avete mh avete soprattutto empatizzato i temi relativi al diciamo al mercato del lavoro mi è sembrato no? Cioè quasi emerge fortemente questo tema che senza un'inclusione in qualche modo un'inserzione lavorativa è molto difficile scardinare il fenomeno il fenomeno della povertà quindi ehm qual è anche il bilanciamento il rapporto tra questi questi due livelli il sistema educativo e dall'altro lato appunto un mercato del lavoro in grado di recepire una domanda del lavoro più 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 sostenuta in qualche modo per incoraggiare soprattutto l'occupazione femminile ma non so Enrica se vuoi dire posso dire due cose io eh ma io distinguerei un conto è il contrasto alla povertà educativa che deve partire dalla primissima infanzia noi non dimentichiamo che siamo un paese non solo con altissima povertà minorile ma con alti tassi di abbandono scolastico di abbandono precoce poi di net eccetera quindi c'è una catena che nasce dalla prima infanzia eh e quindi c'è un problema di investire nelle giovani generazioni in generale in particolare in quelle in condizioni più disagiate proprio per interrompere quella che Davide all'inizio parlava della catena intergenerazionale della riproduzione della povertà eh e questo di nuovo l'Italia se noi guardiamo la distribuzione delle risorse educative eh vediamo ci sono meno asili nido al sud adesso col PNR vedremo ma insomma meno non c'è quasi tempo pieno nella primaria nel mezzogiorno solo nel mezzogiorno esistono le scuole dell'infanzia a tempo parziale e così via quindi c'è una fortissima disomogeneità di eh offerta educativa pubblica che si sovrappone alla eh distribuzione della povertà minorile altro è la questione anche della formazione eh i mitini degli adulti ad esempio se uno va a guardare il come sono fatti diciamo le caratteristiche dei beneficiari del reddito di cittadinanza anche se ci sono persino dei laureati eh ma per lo e ci sono degli occupati eh per lo più si tratta di persone con un anche tra i giovani eh con un bassissimo livello di istruzione a volte senza neppure il completamento dell'obbligo e quindi eh hanno bisogno sicuramente di formazione non di non di trovare un lavoro purché sia squalificato eh ma di eh anche trovare laddove è possibile migliorare le proprie opportunità cioè parlare di politiche attive del lavoro che sicuramente non devono riguardare soltanto i percettori del rete di cittadinanza sono assolutamente d'accordo con Bonini da questo punto di vista eh però parlare di politiche attive del lavoro rivolte ai beneficiari del reddito di cittadinanza che non sono occupati e in parte anche di quelli che sono occupati significa anche rafforzare le loro eh competenze professionali i loro skill io direi anche le loro competenze di cittadini cioè muoversi eh senza invece trattarli come dei minus avens come invece spesso succede bene io direi che possiamo chiudere qui io ringrazio ovviamente gli autori innanzitutto i discussant chi ci ha ascoltato devo dire francamente una discussione molto interessante l'abbiamo fatta anche al momento giusto quindi meglio di così grazie a tutti grazie sia ai presenti sia alle persone collegate online grazie a te ciao ciao grazie